Ma non sto qui ad aprire troppo la parentesi, io passerei immediatamente ad introdurre i nostri ospiti e passerei immediatamente ad introdurre il primo ospite della serata, che è il professor Filomeno Mirra Beis, docente di iatrogenia dell'Università Libera di Pievigina, Catania. Buonasera professore, salve. Mirabelli. Mirabelli, scusi, ex docente. Ex docente, Pechino scusa, può accomodarsi? Sì. Sempre in sequenza andrei a presentare il successivo ospite che è il ragazzo, adesso qua mi manca una nozionalità, credo Surinamense penso, il ragazzino Edding, detto anche Eddie Brown, in Italia da 7 anni, 7 anni e mezzo. Piacere Eddie, ciao, grazie mille. Questo ragazzo con tutti i problemi sia di parola che di udito che di vista, questo ragazzo è in attesa di permesso di soggiorno, ma noi lo stiamo aiutando e il suo lavoro è il parcheggiatore. Il parcheggio Zen Ovest di Codroipo, Udine, insieme a lui andremo ad analizzare il problema della manovra dal punto di vista della manovra, essendo lui quanto parcheggiatore, la manovra automobilistica e i perché, i per come, i quando, i come e i dove, tutte queste manovra viene ovviamente effettuata. Faccio una piccola parentesi, non ho ovviamente parlato, il professor Mirabase, mi scusi, Mirabase, lasci stare!